Aiuto! Non voglio andare! Ho paura! Non ci voglio andare! Non capisco più nulla! Ci siamo! Oddio! Cos'è sto posto? Oh mio Dio! Paura, paura! Cos'è sto posto? Boss? Aiuto? Esci dal portale però! Arca miseria! Ma sai che il portale è doppio? Eh, te lo so per chiedere! Ma è sempre stato doppio in tutte le patch? Eh... Ti vedo più! Ah, eccoti! Che pelo! Ok, qua ci scatti in mode! Boss! Ah, la madonna che lag mi ha tirato! Problema! Oh cazzo! Oh no! Come si fa a tonnarla ora? Problema enorme! Aspetta, io so come si fa! Qui? C'è chi no? C'è chi no? Sì, faccio piaccare come... No! Levati! Aiuta! C'è chi no? C'è chi no? C'è chi no? È sparito! È morto! Allora, spero di non beccare... Oh cazzo! C'è un altro lì! Eh, che mira di merda! No! C'è un pezzo di ferro! Perché qui c'è questo coso? Eh, l'ho messo io! Perché se casomai... Arriva uno e spara... Eh... Si riaccende! Perché sono tutti impazziti gli animali? Anche mi sto cagando addosso! Eh... Che facciamo? Cazzo, avevo l'acciarino! Sai che non possiamo tornare a casa? Come torniamo se non c'abbiamo il ferro? Eh, così! Così come? Eh, mettendo la venga e farla bruciare! E dopo che la fai bruciare? Ah, ho capito! Però come? Eh, non c'ho l'acciarino! Poverino! Uh, chi c'è qui? Vieni che il Bastardone su uccido! Vieni! Eh, non lo devi ucciderci! Fa comodo! Cazzo! Non lo devi uccidere! Come no! No! Perché ci devi sparare al legno quando si prende fuoco! Oh! Oh! Per queste cazzo non si prende fuoco! C'è? Aspetta non si prende fuoco! Io vorrei vedere un po' cosa c'è in giro! Ora se prendiamo un po' di lava! Guarda la soul sand! La sabbia delle anima, guarda dove si muove! Wepporcelli no! Wepporcelli no! Iniziamo a prendere i materiali Vediamo che sono brutti sti porcellini d'India Io voglio qui così che brillino lì su Andiamo a vedere dove ce n'è No ma sai che Mi viene prima di fare la fortezza Sennò è un casino Cazzo non ci voleva però che ci rubassero Oh no A parte mi sono già perso Boss mi sono perso No è tutto dito così Ok io provo È bisogno che risolve prima il portale Sì concordo Come si fa a spostare il fuoco? Facendo altro fuoco Tu quando venivai? Ha preso fuoco Aspetta cosa ce la faccio? Oh dove è traguato quello? Eh ce l'ho in mano Oh ha preso fuoco ha preso fuoco Oh spera che funziona che se no Siamo in curate No 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 Mettino su Ho finito il legno Ecco ha preso ha preso ha preso Sì ma per me che non piene a fianco perché non ce l'ha un legno a fianco vedi Eh ma sotto Ah cazzo Veloce veloce Vedi Porca Fai guarda come via Prendilo No 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 A fuoco Pucciamo Dai almeno puoi ritornare di là Sufendo Eh non c'ho più il legno Ce l'ho io Forse me lo sei muori Io? Sì Sono già morto in questa serie Devo morire io? Ce l'hai un legno per fare una cassetta degli attrezzi? No Cazzo E come si fa? Sto aprendo io la roba Eh furbo lui eh Vai ho capito Mi sacrificherò per la patria Io io Vado io Vieni qui vieni qui Ti dono Ti dono tutta la mia roba C'è una roba importante I blocchi Non morire Aspetta così 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 Guarda che c'è sempre tutta la roba lì avanti I boss sono già pieni Come sei già pieni? Mi sto anche spogliando nudo Che cazzo Aspetta Faccio così Dai Butta via qualcosa Ti do anche il vetro va La pietra la riprendo Beh ragazzi Vi ho voluto bene Ma se io mi incendio E vado qui dentro E prova Dai Non funziona Non si accende Oh cazzo Vieni qui Bastardo Pensavo l'aveva acceso il bastardo Ah mi faccio uccidere qui Oh ma non muori Io non muoio Oh No 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 Andrione No Avevo 33 livelli Oh No No 33 livelli No Voi muoviti che ho paura Dai Cazzo No Orca boia Come si fa ora Come si fa Prendi il legno E acciarino Dai Prendo l'acciarino Più due cose Un coso di ferro Che non si sa mai Orbai Dopo le ultime Poi cos'è che prendo Legno Che legno Legno Per farci Che ne so Le casse Ah si Giusto Mi piglio uno stack Va E poi torna qui di corsa No Stai a vedere che mi manda in un altro posto Fluff arrivo Teletrasporto Aspetta ti fango il fuoco Cos'è no qui Arrivo Caricamento del terreno Ci sono Oh Ma perché ne hai fatto un altro No io non ne ho fatto un altro Che cazzo di bug sono questi Ah forse sai perché Perché Il cambiamento da una patch all'altra Ah ci sta ma ora sta Ogni volta che si spawna E mi fa uno nuovo Bah vediamo Eh però evita di sta lì Come vai Sto guardando se ci spawna Dall'altra parte Ah intanto inizio a chiudere il portale Che non voglio che scoppia Tra l'altro Io sto per vomitare Oh Non mi fa Non mi entra Oh forse era sì Madonna che grafica Uh Ok è sempre lo stesso Ma aspetta Stai chiudendo quello sbagliato Lasciamo quello doppio Quello doppio Più figo Che cazzo è dillo Uè porchi pig E che tu vuoi Qua senti Io ho fatto anche tipo Hona Sunset Ah ecco l'hai fatta tu Sì sì Fatto bene Fatto bene La nostra base operativa Oh guarda che figa Bellina cazzo Anzi qui facciamo un open space Ok ora Per il tempio Serve tante cose Tipo? Tipo quarzo E questi blocchi rossi Sì mamma che ce l'ha Li butti qua dentro Che cazzo fai? Sì quarzo Aiuto Le tubature faccio Cazzo è pro che siamo Mamma mia Una torcia Aspetta C'è una torcia Scusa un po' di stile Cazzo no ho sbagliato No Che figo Cazzo cosa abbiamo fatto Siamo a 23 minuti Direi che possiamo anche stoppare il video Ragazzi si saluta Nel prossimo video Al prossimo video Ciao 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 ciao